ciao amici proseguo nella recensione del kit antifurto futura di italian alarm ricordo che è un antifurto wifi che possiamo installare noi stessi con un semplice lavoro di fai da te in questo video vediamo in dettaglio la sirena filare da interno e la sirena wifi da esterno cominciamo dalla sirena da interno è di plastica molto piccola senno a mano l'installazione è elementare inseriamo il jack nella presa alarm fatto misuriamo l'intensità del suono passiamo alla sirena da esterno è disponibile in due versioni una va alimentata con la rete elettrica qui davanti è di plastica bianca la batteria integrata serve ad alimentarla nel caso venisse a mancare la corrente possiamo acquistare la batteria di ricambio nel sito italianalarm.com l'altra è energia solare qui davanti monta un pannello fotovoltaico vi lascio il link di entrambi i kit qui sotto in descrizione se disponete di una posizione ben esposta al sole vi consiglio indubbiamente la sirena solare dovrete così solamente fissarla alla parete con viti e tasselli sul retro della sirena è presente una piastra di fissaggio è di alluminio la dobbiamo appendere alla parete la sirena si fissa di incastro la sirena del kit è già associata alla centralina non dobbiamo fare nulla la sirena ci arriva smontata prima di fissarla alla parete avvitiamo nei fori che troviamo sul retro le sei viti che troviamo nella confezione ma prima accendiamola tramite la levetta all'interno dobbiamo posizionarla su on quindi tiriamola verso l'alto proviamo ad armare l'impianto la sirena ci conferma azione in questo modo disarmiamo l'impianto e vediamo la reazione della sirena allarme disinserito spegniamola possiamo cambiare il comportamento della sirena spostando verso sinistra il ponte l2 h2 proviamo ancora questa volta non armo con il telecomando ma usiamo l'app quindi armiamo allarme disinserito e disarmiamo questo è il comportamento della sirena possiamo quindi scegliere la modalità che preferiamo armiamo l'impianto proviamo a far scattare l'allarme vediamo se la sirena si attiva immediatamente teniamo armato l'impianto sfiliamo la sirena dalla piastra per simulare che venga rimossa da un malintenzionato quindi simuliamo che di fatto venga rimossa dalla parete vediamo cosa succede disarmiamo l'impianto e ripetiamo la prova fantastico ottimo misuriamo quanto è rumorosa molto bene porto la sirena in fondo al giardino a una distanza di quasi 60 metri dalla centralina vediamo se riescono a comunicare molto bene la centralina è la in fondo alle mie spalle attiviamo l'allarme con l'app vediamo cosa succede bene amici in conclusione anche le sirene hanno dimostrato che futura è un valido impianto antifurto vi aspetto per il prossimo video in cui recensirò altri componenti di questo interessante impianto antifurto grazie per la visione